Al via il Zigarelli Bis, la campagna sarà nuovamente guidata dal dirigente di Valle per il quadriennio 2021-2024, secondo mandato consecutivo quindi per il numero 1 vellinese che è pronto a proseguire un lavoro iniziato nel suo primo percorso. La candidatura del dirigente Irpino è stata sostenuta da 405 società su 423, a dimostrazione che la vicinanza di Zigarelli ai club in questo momento così delicata a livello mondiale è stata apprezzata. Il presidente è stato in continuo contatto con le società cercando di capire le difficoltà di ogni singola squadra. Tra i principali obiettivi di Zigarelli c'è il ripianamento del debito relativo alla gestione Vincenzo Pastore, opera già iniziata e che proseguirà nel secondo mandato. Ci saranno maggiori tavoli tecnici con le società, un confronto continuo con i club che già la scorsa estate ha portato all'allargamento degli organici di eccellenza e promozione. L'obiettivo è far ripartire i campionati tra questo mese ed il prossimo rispettando tutte le normative per salvaguardare la salute di atleti e addetti ai lavori e non modificando ulteriormente il format della stagione che probabilmente terminerà senza ulteriori cambiamenti con l'inizio dell'estate. Eletti, oltre alla squadra di governo, anche i delegati assembleari Antonio Inverso, Umberto Miniello, Domenico Giulio Iacoviello, Gregorio Franco Barone, Federica Cacciapuoti, Onofre Alfano, mentre i supplenti saranno Rocco Caruso, Emanuele Mazzeella, Massimo Vitale e Vincenzo Autori. A livello nazionale la campagna da massima fiducia all'altro irpino, Cosimo Sibilia, per la carica di presidente della Lega Nazionale di Lettanti. Vicepresidente vicario dell'LND è stato indicato Ettore Pellizzari, il vicepresidente dell'Area Sud sarà Santino Lopresti, consigliere federale dell'Area Sud Maria Rita Acciardi, mentre la carica di consigliere federale nazionale è stata affidata a Daniele Ortolano. Il collegio dei revisori dei conti della Lega Nazionale di Lettanti sono stati indicati Felicio De Luca, Gabriele Pecile e Andrea Pedetta, designato anche Remo Luzzi, che sarà il delegato assembleare in rappresentanza dell'Area Sud per il settore giovanile e scolastico.